ad alta voce paolo poli legge i promessi sposi di alessandro manzoni l'innominato voleva chiamare uno dei suoi sgherri e spedirlo subito incontro alla carrozza a ordinare al nibbio che voltasse e conducesse colei al palazzo di don rodrigo ma un no imperioso che risuonò nella sua mente fece svanire quel disegno tormentato però dal bisogno di dar qualche ordine riducendogli intollerabile lo stare aspettando oziosamente quella carrozza che veniva avanti passo passo come un tradimento che so io come un gastigo fece chiamare una sua vecchia donna era la vecchia nata in quello stesso castello da un antico custode di esso e aveva passata lì tutta la sua vita ciò che aveva veduto e sentito fin dalle fasce e aveva impresso nella mente un concetto magnifico e terribile del potere dei suoi padroni e la massima principale che aveva attinta dall'istruzione dagli esempi era che bisognava obbedirli in ogni cosa perché potevano far del gran male e del gran bene l'idea del dovere deposta come un germe nel cuore di tutti gli uomini svolgendosi nel suo insieme con sentimenti di un rispetto di un terrore di una cupidigia servile si era associata e adattata a quelli quando l'innominato divenuto padrone cominciò a far quell'uso spaventevole della sua forza costa e ne provò da principio un certo ribrezzo insieme e un sentimento più profondo di sommissione col tempo si era avvezzata a ciò che aveva tutto il giorno davanti agli occhi e negli orecchi la volontà potente sfrenata di un così gran signore era per lei come una specie di giustizia fatale ragazza già fatta aveva sposato un servitor di casa il quale poco dopo essendo andato a una spedizione rischiosa lasciò l'ossa su una strada e lei vedova nel castello la vendetta che il signore ne fece subito le diede una consolazione feroce e le accrebbe l'orgoglio di trovarsi sotto una tal protezione dall'ora in poi non mise piede fuori del castello che molto di rado e a poco a poco non rimase del vivere umano quasi altre idee salvo quelle che ne riceveva in quel luogo non era detta ad alcun servizio particolare ma in quella masnada di sgherri ora l'uno ora l'altro le davano da fare ogni poco che era il suo rodimento ora aveva cenci da rattoppare ora da preparare in fretta da mangiare a chi tornasse da una spedizione ora feriti da medicare i comandi poi di coloro i rimproveri i ringraziamenti erano conditi di beffe e di improperi vecchia era il suo appellativo usuale gli aggiunti che qualche d'uno sempre ci se ne attaccava variavano secondo le circostanze e l'umore dell'amico ecco lei disturbata nella pigrizia e provocata nella stizza che erano due delle sue passioni predominanti contraccambiava le volte quei complimenti con parole in cui satana avrebbe riconosciuto più del suo ingegno che in quelle dei provocatori tu vedi laggiù quella carrozza le disse il signore la vedo rispose la vecchia cacciando avanti il mente appuntato e accusando gli occhi infossati come se cercasse di spingerli sugli orli dell'occhiaie fa allestir subito una bussola entraci e fatti portare alla malanotte subito subito che tu ci arrivi prima di quella carrozza già la viene avanti col passo della morte in quella carrozza c'è ci deve essere una giovine se c'è di al nebbio il mio nome che la metta nella bussola e lui venga su subito da me tu sarai nella bussola con quella giovine e quando sarete quassù la condurrai nella tua camera se ti domanda dove la meni di chi è il castello guarda di no disse la vecchia ma continuò l'innominato falle coraggio cosa le devo dire cosa le devi dire falle coraggio ti dico tu sei venuta con questa età senza sapere come si fa coraggio a una creatura quando si vuole hai mai sentito affanno di cuore hai tu mai avuto paura non sai le parole che fanno piacere in quei momenti dille di quelle parole trovale alla malora va e partita che fu si fermò alquanto alla finestra con gli occhi fissi a quella carrozza che già appariva più grande di molto poi gli andò al sole che in quel momento si nascondeva dietro la montagna poi guardò le nuvole sparse al di sopra che di brune si fecero quasi a un tratto di fuoco si ritirò chiuse la finestra e si si fecero quasi a camminare innanzi indietro per la stanza con un passo di viaggiatore frettoloso la vecchia era corsa a ubbidire e a comandare con l'autorità di quel nome che da chiunque fosse pronunziato in quel luogo li faceva spicciar tutti perché a nessuno veniva in testa che ci fosse uno tanto ardito da servirsene falsamente si trovò infatti alla malanotte un po' prima che la carrozza ci arrivasse e vista l'avvenire uscì di bussola fece segno al cocchiere che fermasse si avvicinò allo sportello e al nibbio che mise il capo fuori riferì sottovoce gli ordini del padrone lucia al fermarsi della carrozza si scosse e rinvenne da una specie di letargo si sentì da capo rimescolare il sangue spalancò la bocca e gli occhi e guardò il nibbio si era tirato indietro e la vecchia col mento sullo sportello guardando lucia diceva venite la mia giovine venite poverina venite con me che ordine di trattarvi bene di farvi coraggio al suono di una voce di donna la poverina provò un conforto un coraggio momentaneo ma ricadde subito in uno spavento più cupo chi siete disse con voce tremante fissando lo sguardo attonito in viso alla vecchia venite venite poverina andava questa ripetendo il nibbio agli altri due argomentando dalle parole e dalla voce così straordinariamente raddolcita di colei quali fossero le intenzioni del signore cercavano di persuader con le buone l'oppressa a ubbidire ma lei seguitava a guardar fuori e benché il luogo selvaggio e sconosciuto e la sicurezza dei suoi guardiani non le lasciassero concepire speranza di soccorso apriva nonostante la bocca per gridare ma vedendo il nibbio far gli occhiacci del fazzoletto ritene il grido tremò si storse fu presa e messa nella bussola dopo c'entrò la vecchia il nibbio disse agli altri due manigoldi che andassero dietro e prese speditamente la salita per accorrere ai comandi del padrone chi siete domandava con ansietà lucia al ceffo sconosciuto e deforme perché sono con voi dove sono dove mi conducete da chi vuol farvi del bene rispondeva la vecchia da un gran fortunati quelli a cui vuol far del bene buon per voi buon per voi non abbiate paura state allegra che mi ha comandato di farvi coraggio glielo direte che v'ho fatto coraggio chi è perché che vuol da me io non son sua ditemi dove sono lasciatemi andare dite a costoro che mi lasciano andare che mi portino in qualche chiesa o voi che siete una donna in nome di maria vergine quel nome santo e suave già ripetuto con venerazione nei primi anni e poi non più invocato per tanto tempo ne forse sentito proferire faceva nella mente della sciagurata che lo sentiva in quel momento un'impressione confusa strana lenta come la rimembranza della luce in un vecchione accecato da bambino intanto l'innominato rito sulla porta del castello guardava in giù e vedeva la bussola venire passo passo come prima la carrozza e avanti a una distanza che cresceva ogni momento salir di corsa il nibbio quando questo fu in cima il signore gli accennò che lo seguisse e andò con lui in una stanza del castello ebbene disse fermandosi lì tutto appuntino rispose inchinandosi il nibbio l'avviso a tempo la donna a tempo nessuno sul luogo un urlo solo nessun comparso il cocchiere pronto i cavalli bravi nessun incontro ma ma che ma dico il vero che avrei avuto più piacere che l'ordine fosse stato di darle una schioppettata nella schiena senza sentirla parlare senza vederla in viso cosa cosa che vuoi tu dire voglio dire che tutto quel tempo tutto quel tempo mh ha fatto troppa compassione compassione che sai tu di compassione cos'è la compassione non l'ho mai capito così bene come questa volta è una storia la compassione un poco come la paura se uno la lascia prender possesso non è più uomo sentiamo un poco come ha fatto costei per muoverti a compassione o signore illustrissimo tanto tempo piangere e pregare e far certocchi e diventar bianca bianca come morta e poi singhiozzare e pregare di nuovo e certe parole non la voglio in casa costei pensava intanto l'innominato sono stato una bestia a impegnarmi ma ho promesso ho promesso quando sarà lontana e alzando la testa in atto di comando verso il nibbio ora gli disse metti da parte la compassione monta a cavallo prendi un compagno due se vuoi e va di corsa a casa di quel don rodrigo che tu sai digli che mandi ma subito subito perché altrimenti ma un altro no interno più imperioso del primo gli proibì di finire no disse con voce risoluta quasi per esprimere a se stesso il comando di quella voce segreta no va a riposarti e domattina farai quello che ti dirò un qualche demonio accostei dalla sua pensava poi rimasto solo ritto con le braccia incrociate sul petto e con lo sguardo immobile su una parte del pavimento dove il raggio della luna entrando da una finestra alta disegnava un quadrato di luce pallida tagliata scacchi dalle grosse inferriate e intagliata più minutamente dai piccoli compartimenti delle vetriate un qualche demonio o un qualche angelo che la protegge compassione al nibbio domattina domattina di buon'ora fuori di qui costei al suo destino e non se ne parli più e proseguiva tra sé con quell'animo con cui si comanda a un ragazzo indocile sapendo che non ubbidirà e non ci si pensi più quell'animale di don rodrigo non mi venga a rompere la testa con un ringraziamenti che non voglio più sentir parlare di costei l'ho servito perché perché ho promesso e ho promesso perché è il mio destino ma voglio che me lo paghi bene questo servizio colui vediamo un poco e voleva almanacare cosa avrebbe potuto richiedergli di scabroso per compenso e quasi per pena ma gli si attraversarono di nuovo alla mente quelle parole compassione al nibbio come può aver fatto costei continuava strascinato da quel pensiero voglio vederla eh no sì voglio vederla ed una stanza in un'altra trovò una scaletta e sua tastone andò alla camera della vecchia e picchiò all'uscio con un calcio chi è apri a quella voce la vecchia fece tre salti e subito si sentì scorrere il paletto negli anelli e l'uscio si spalancò l'innominato dalla soglia diede un'occhiata in giro e a lume di una lucerna che ardeva su un tavolino vide lucia rannicchiata in terra nel canto il più lontano dall'uscio che t'ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci sciagurata disse alla vecchia con un cipiglio iracondo e se messa dove le è piaciuto rispose umilmente con lei io ho fatto di tutto per farle coraggio lo può dire anche lei ma non c'è stato verso alzatevi disse l'innominata lucia andandole vicino ma lucia a cui il picchiare l'aprire il comparir di quell'uomo le sue parole aveva ammesso un uovo spavento nell'animo spaventato stava più che mai ragomitolata nel cantuccio col viso nascosto tra le mani e non muovendosi se non che tremava tutta alzatevi che non voglio farvi del male e posso farvi del bene ripete il signore alzatevi tornò poi quella voce svegnata da aver due volte comandato in vano come rinvigorita dallo spavento l'infelicissima si rizzò subito in ginocchioni e giungendo le mani come avrebbe fatto davanti a un'immagine alzò gli occhi in viso all'innominato e riabbassandoli subito disse son qui ma ma si v'ho detto che non voglio farvi del male rispose con voce mitigata all'innominato fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore coraggio coraggio diceva la vecchia se ve lo dice lui che non vuol farvi del male e perché riprese lucia con una voce in cui col tremito della paura si sentiva una certa sicurezza dell'indegnazione disperata perché mi fa patire le pene dell'inferno cosa le ho fatto io vanno forse maltrattata parlate o maltrattata mi hanno presa tradimento per forza perché perché mi hanno presa perché son qui dove sono sono una povera creatura cosa le ho fatto in nome di dio 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 interruppe l'innominato sempre dio coloro che non possono difendersi da sé che non hanno la forza sempre an questo dio da mettere in campo come se gli avessero parlato cosa pretendete con codesta parola di farmi e lasciò la frase a mezzo o signore pretendere cosa posso pretendere io meschina se non che lei mi usi misericordia dio perdona tante cose per un'opera di misericordia mi lasci andare per carità mi lasci andare non torna conto a uno che un giorno deve morire di far patir tanto una povera creatura o lei che può comandare dica che mi lasci non andare ma hanno portata qui per forza mi mandi con questa donna a dov'è mia madre o vergine santissima mia madre mia madre per carità mia madre forse non è lontana di qui ho veduto i miei monti perché lei mi fa patire mi faccia condurre in una chiesa pregherò per lei tutta la mia vita cosa le costa dire una parola o ecco vedo che si muove a compassione dica una parola la dica dio perdona tante cose per un'opera di misericordia perché non è figlia di uno di quei cani che m'hanno bambito pensava all'innominato d'uno di quei vili che mi vorrebbero morto che ora godrei di questo suo strillare e invece non iscacci una buona ispirazione proseguiva fervidamente lucia rianimata dal vedere una cert'aria d'esitazione nel viso e nel contegno del suo tiranno se lei non mi fa questa carità me la farà il signore mi farà morire e per me sarà finita ma lei forse un giorno anche lei ma no no pregherò sempre io il signore che la preservi da ogni male cosa le costa dire una parola se provasse lei a patire queste pene via fatevi coraggio interruppe l'innominato con una dolcezza che fece strasecolar la vecchia ho fatto nessun male ho minacciata o no vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura se lei volesse potrebbe farmi paura più di tutti gli altri potrebbe farmi morire e invece mi ha un po allargato il cuore dio gliene renderà merito compisca l'opera di misericordia mi liberi mi liberi domattina o mi liberi ora subito domattina ci rivedremo vi dico via intanto fatevi coraggio riposate dovete aver bisogno di mangiare ora ve ne porteranno no no io moio se alcuno entra qui io moio mi conduca lei in chiesa quei passi dio glieli conterà verrà una donna a portarvi da mangiare disse l'innominato e dettolo rimase stupito anche lui che gli fosse venuto in mente un tal ripiego e che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno per assicurare una donnicciola e tu riprese poi subito voltandosi alla vecchia falle coraggio che mangi mettila a dormire in questo letto e se ti vuole in compagnia bene altrimenti tu puoi ben dormire una notte in terra falle coraggio ti dico ti è l'allegra e che non abbia lamentarsi di te così detto si mosse rapidamente verso l'uscio lucia salzò e corse per trattenerlo e rinnovare la sua preghiera ma era sparito oh povera me chiudete chiudete subito e sentito che ebbe accostare i battenti e scorrere il paletto tornò a rannicchiarsi nel suo cantuccio oh povera me e scalamò di nuovo singhiozzando chi pregherò ora dove sono ditemi voi ditemi per carità chi è quel signore quello che mi ha parlato chi è chi è volete che io ve lo dica aspetta che io te lo dica perché vi protegge avete messo su superbia e volete essere soddisfatta voi e farne andare di mezzo me domandatene a lui se io vi contentassi anche in questo non mi toccherebbe di quelle buone parole che avete sentito voi io sono vecchia sono vecchia continuò morvorando tra i denti maledette le giovani che fanno bel vedere a piangere e a ridere e hanno sempre ragione ma sentendo lucia singhiozzare e tornandole minaccioso alla mente il comando del padrone si chinò verso la povera rincantucciata e con voce raddolcita riprese via non v'ho detto niente di male state allegra non mi domandate di quelle cose che non vi posso dire e del resto state di buon animo o se sapeste quanta gente sarebbe contenta di sentirlo parlare come ha parlato a voi state allegra che ora ora verrà da mangiare e io che capisco nella maniera che va parlato ci sarà della roba buona e poi andrete a letto e mi lascerete un cantuccino anche a me spero soggiunse con una voce suo malgrado stizzosa non voglio mangiare non voglio dormire lasciatemi stare non v'accostate non partite di qui no no via disse la vecchia ritirandosi e mettendosi a sedere su una seggiolaccia donde dava alla poverina certe occhiate di terrore e d'astio insieme e poi guardava il suo covo rodendosi d'esserne forse esclusa per tutta la notte e brontolando contro il freddo ma si rallegrava col pensiero della cena e con la speranza che ce ne sarebbe anche per lei lucia non sa vedeva del freddo non sentiva la fame e come sbalordita non aveva dei suoi dolori dei suoi terrori stessi che un sentimento confuso simile alle immagini sognate da un febbricitante si riscosse quando sentì picchiare e alzando la faccia atterrita gridò chi è chi è non venga nessuno nulla nulla buone nuove disse la vecchia è marta che porta da mangiare chiudete chiudete gridava lucia i subito subito rispondeva la vecchia e presa una paniera dalle mani di quella marta la mandò via richiuse e venne a posare la paniera su una tavola nel mezzo della camera invitò poi più volte lucia che venisse a goder di quella buona roba adoprava le parole più efficaci secondo lei a mettere appetito alla poverina prorompeva in esclamazioni sulla squisitezza dei cibi di quei bocconi che quando le persone come noi possono arrivare a assaggiarle se ne ricorda per un pezzo del vino che beve il padrone con suoi amici quando capita a qualche d'uno di quelli e vogliono stare allegri ma vedendo che tutti gli incanti riuscivano inutili siete voi che non volete disse non estate poi a dirgli domani che io non v'ho fatto coraggio mangerò io e ne resterà più che abbastanza per voi per quando metterete giudizio e vorrete obbedire così detto si mise a mangiare avidamente saziata che fu salzò andò verso il cantuccio e chinandosi sopra lucia l'invitò di nuovo a mangiare per andar poi a letto no no non voglio nulla rispose questa con voce fiacca e come sono lenta poi con più risolutezza riprese è serrato l'uscio e serrato bene e dopo aver guardato in giro per la camera salzò e con le mani avanti con passo sospettoso andava verso quella parte la vecchia ci corse prima di lei stesse la mano al paletto lo scosse e disse sentite vedete è serrato bene senti contenta ora o contenta contenta io qui disse lucia rimettendosi di nuovo nel suo cantuccio ma il signore lo sa che ci sono venite a letto cosa volete far lì accucciata come un cane se mai visto rifiutare i comodi quando si possono avere no no lasciatemi stare siete voi che lo volete ecco io vi lascio il posto buono mi metto sulla sponda tarò incomoda per voi se volete venire a letto sapete come avete a fare ricordatevi che v'ho pregata più volte così dicendo si caccia sotto vestita e tutto tacque